Che cosa è emerso dal lavoro del vostro gruppo? Il gruppo di cui sono rapporteur si occupa del digitale come strumento per l'integrazione europea. Ho incontrato una varietà di persone, di pareri molto impressionante. Non è propriamente il mio campo, il broadcasting o la comunicazione in generale. Mi occupo di digitale dal punto di vista prevalentemente informatico. Ho scoperto quindi che c'è una sensibilità molto più vasta di quello che pensavo sulla trasformazione che il digitale sta impartendo alla società, in particolare in Europa. Ho sentito ad esempio un enorme bisogno di maggiore formazione sui temi del digitale da parte di, per esempio, video artisti o giornalisti o altre professioni. Ho sentito una chiara sensibilità per la difficoltà di comprendere, interpretare e utilizzare la massa di dati che ci proviene dal web sostanzialmente. E più in generale la speranza che, viceversa, questa abbondanza di informazioni diventi un strumento per costruire un'identità, una consapevolezza dei cittadini europei. Il vero problema è di capire in che modo questi strumenti possano portare dei risultati in questa direzione, perché noi siamo abituati a dei mezzi di comunicazione abbastanza tradizionali che stanno transitando in una dimensione digitale, non siamo ancora molto pronti forse né all'abbondanza né al tipo di contenuti nuovi che questi mezzi permettono di diffondere.